Gesti concreti per il rispetto dell'ambiente, alunni delle scuole di Chiavari, protagonisti nella pulizia della spiaggia dell'Ideo e nell'apertura del nuovo Ricicla Point. Al via la progettazione esecutiva della nuova caserma dei Carabinieri di Sestri Levante che sorgerà in via Dante, approvato in consiglio lo stanziamento necessario. Nasce la zona pastorale dell'Alta Valpetronio che sarà guidata da Don Siriac Bigirimana ieri sera incontro fra il Vescovo e i fedeli della Valle. Prima di tutto ascoltare il tema scelto per la consegna del mandato ai catechisti della Diocesi di Chiavari domenica appuntamento alle 15.30 in Cattedrale. Si amplia l'offerta culturale del territorio, nascerà a Carasco il Museo Archeologico della Fontana Buona pronto il progetto sui ruderi dell'ex chiesa di San Marciano. Settima stagione di spettacoli per il Teatro di Cicagna, 21 titoli tra prosa, commedia in dialetto, musica e cabaret da ottobre ad aprile 2018. Tornano anche i corsi di recitazione. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13 e apriamo il nostro telegiornale occupandoci di temi ambientali. Oltre 100 i ragazzi delle scuole Fara e Solari di Chiavari che questa mattina hanno contribuito alla pulizia della spiaggia del Lido alla foce del Fiume Entella. Decine invece quelli che hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo Ricicla Point attivato nel quartiere di San Pier di Cane. Un modo per sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto dell'ambiente da mettere in campo con azioni e gesti concreti, proprio come quelli di questa mattina. C'è chi di plastica vorrebbe addirittura venisse riconosciuta come stato l'isola di rifiuti che vaga nel cuore dell'Oceano Pacifico. Chi invece la plastica e i rifiuti abbandonati li raccoglie sulle spiagge, come è successo questa mattina per le classi terza delle scuole elementari Fara e Solari di Chiavari. Chi invece la plastica la inserisce all'interno di un grosso contenitore mangia bottiglie e riceve in cambio punti spesa, come hanno fatto gli alunni della quarta e quinta elementare di San Pier di Cane. Sono alcuni aspetti di un unico grande tema che è il rispetto per l'ambiente. Da una provocazione a livello mondiale, l'isola di plastica, grandi quasi come la Francia, esiste davvero e si estende per 700.000 km quadrati e mostra con evidenza i segni dell'incuria dell'uomo, questa mattina le giovani generazioni del Tiguglio hanno dimostrato che prendersi cura dell'ambiente si può e come è successo sulla spiaggia del Lido a Chiavari basta poco. Il fatto di dare ai bambini la possibilità di vedere come con una pinzetta si raccoglie le cose, si mette in un rettino, addirittura senza guanti il rettino si può svuotare e comunque i guanti si usano. Questo qui potrebbe essere un bel kit da regalare ai nostri bambini. Il tema del riciclo poi si sposa anche con quello del risparmio. Nell'esempio del riciclapoint inaugurato questa mattina davanti al supermercato Coop del quartiere di San Pier di Cane a Chiavari, così come per quello aperto due mesi fa a Carasco, anche qui mettendo una bottiglia di plastica si ricevono in cambio buoni sconti, che conti alla mano si traducono anche in materiale plastico raccolto e smaltito correttamente. Due mesi fa è stato installato il primo vicino all'iper di Carasco, presso il nostro ipermercato di Carasco. I risultati sono stati sostanzialmente ottimi dal nostro superiore alle iniziative, tant'è che abbiamo raccolto, o il dato di posso dire in due mesi, oltre 50.000 contenitori di plastica o alluminio. E abbiamo elargito 4.200 euro di sconti, che sono un po' la contropartita per impegnare i cittadini a portare questa plastica in questi contenitori al fine di non immetterli nell'ambiente o nei normali punti di deposito. È ancora provvisoria, ma è già entrata in funzione, la nuova rotatoria all'incrocio tra Via Trieste, Via Le Marconi e lo svincolo per Via Tito Groppo a Chiavari. Ultimati i lavori di preparazione iniziati alcuni giorni fa sono stati posizionati in New Jersey in plastica, che vanno a formare il cerchio attorno al quale viene regolato il traffico. Seguirà ora un periodo di sperimentazione prima del suo posizionamento definitivo con apposito arredo urbano. La prossima settimana sarà aperto il bando per assegnare la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova caserma dei Carabinieri di Sestri Levante. Il Consiglio Comunale nella seduta di ieri sera ha disposto lo stanziamento della cifra necessaria a questa progettazione. L'opera, che è stata concordata con l'arma dei Carabinieri e con la Prefettura, è piuttosto consistente e prevede una spesa di un milione e mezzo di euro. Infatti si prevede la realizzazione della caserma laddove oggi sorgono gli uffici comunali di Via Dante, che verranno a loro volta trasferiti negli uffici di Piazza della Repubblica. Nella seduta consigliare di ieri sera, inoltre, sono state approvate le variazioni all'elenco delle opere pubbliche che prevedono l'intervento definitivo di messa in sicurezza della frana che si era staccata lungo le gallerie di Moneglia nei pressi della località Madonnetta nel novembre 2016. Il Comune era intervenuto allora con una somma urgenza, ma poi, grazie ad un finanziamento regionale di 100.000 euro, ha disposto l'inizio dell'intervento con i rocciatori che verrà eseguito nel mese di ottobre. Inoltre è stato finanziato il progetto per la canalizzazione delle acque dell'ex miniera di Libiola, che ridurrà sensibilmente l'impatto sul torrente Gromolo. In questo caso la spesa è di 300.000 euro. Approvata all'unanimità, infine, una mozione presentata dai gruppi consigliari di maggioranza relativa a fincantieri, che parte dalla considerazione del notevole carico di lavoro che insiste oggi sul cantiere grazie all'approvazione della legge navale. Obiettivo del documento è quello di stimolare l'assunzione di manodopera locale. La mozione invita, nello specifico, Regione Liguria, che ha la delega alla formazione professionale, a verificare se vi siano carenze di manodopera specializzata fra le maestranze, per indirizzare e finanziare nuovi corsi proprio alla formazione di giovani che possano essere assunti in questo settore. La pagina diocesana. Il Vescovo ha incontrato ieri sera nella parrocchia di Castiglione Chiavarese i fedeli delle comunità dell'Alta Val Petronio, un confronto partecipato e positivo in cui Monsignor Alberto Tanasigni ha invitato i fedeli a iniziare un cammino di fraternità e comunione tra parrocchie. La zona pastorale sarà affidata alle cure di Don Siriac Bigirimana, che assume l'incarico di amministratore parrocchiale di Sant'Antonino Martire a Castiglione Chiavarese, San Pietro di Frascati, San Michele di Masso, Santi Rocco e Gaetano di Campegli, Santa Maria Assunta di Missano, San Martino di Velva e rettore del santuario di Nostra Signora della Guardia di Velva. Don Siriac, sacerdote di origine burundese, nato a Mugamba il 1 gennaio del 1972 e ordinato il 18 agosto del 2001, già presta servizio in alcune di queste comunità. Diventa responsabile di tutte le parrocchie e potrà avvalersi della collaborazione di padre James Walsh, sacerdote di origine neozelandese che già presta servizio al santuario di Velva e dell'aiuto del diacono Franco Rolleri e di Suor Maria Crocifissa. L'incarico diventerà pienamente operativo da metà ottobre. È inoltre ufficiale il decreto di nomina del sacerdote novello Don Salvator Bizzimana, che assume l'incarico di vicario parrocchiale di San Giacomo di Corte e della collegiata di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure, affiancando il parroco Don Gian Emanuele Muratore. Don Salvator, nato in Burundi il 15 luglio del 1970 e ordinato sacerdote il 4 giugno di quest'anno, sarà inoltre responsabile della pastorale giovanile delle parrocchie di Santa Margherita. Domenica alle 15.30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari il Vescovo Alberto Tanasini consegnerà il mandato ai catechisti della nostra diocesi. Questo appuntamento sarà trasmesso in diretta sul Telepaccio 2 al canale 85. Vediamo. È difficile stabilire quanti siano effettivamente i catechisti che prestano servizio nella diocesi di Chiavari. Ogni anno, quando il Vescovo consegna loro il mandato all'inizio di un nuovo anno pastorale, vengono distribuiti circa 500 cartoncini, ma il loro numero è senz'altro maggiore, forse arriva ad 800. Siamo su quel numero lì sicuro, tra i 500 e i 800, ed è una macchina di comunità, di persone che lavorano, forse tra le più grandi come realtà anche nella diocesi o in una diocesi. Essendo una grande realtà anche come numero, sicuramente la comunione diocesana passa anche di lì. Il progetto catechistico, lo sappiamo, non è perfetto, a volte esige qualche compromesso, lasciare stare qualche idea che abbiamo, però va verso una cosa molto importante e bella giorno d'oggi, che è il lavorare insieme con le proprie diversità, però dove veramente i catechisti diocesani, non solo quelli tra le parrocchie, sono una comunità, in comunione con loro. La consegna del mandato ogni anno significa ricevere la spinta ad annunciare il Vangelo nella comunità diocesana e attraverso di essa. Il catechista non è solo, non porta semplicemente se stesso, il proprio pensiero, una propria attività di volontariato, ma presta il suo servizio in comunione con la Chiesa diocesana, la cui unità è rappresentata dal Vescovo. Il tema scelto per quest'anno è, prima di tutto, ascoltare. Ci sembra di dover, che lo fanno già i catechisti, però un po' di più portare l'attenzione sul fatto che il catechista è uno che prima che parlare dire ascolta, intanto se stesso, la sua storia, la sua vita, ascolta il Padre, ascolta Gesù. E poi l'ascolto, come dicevamo, della Chiesa stessa, della comunità, perché il catechista è colui che ascolta anche le esigenze, i bisogni, gli input e le profezie della Chiesa, le fa proprie e le annuncia. E poi, ultimo e non ultimo, ascolta i ragazzi, qui si rivolge per annunciare, perché se uno ha anche l'idea più bella del mondo, il metodo più bello del mondo, ma non si accorge di chi ha davanti, rischia di parlare a vuoto a se stesso. La parrocchia di San Martino di Zoagli celebra la festa patronale di Nostra Signora del Rosario. Domani alle 15, la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori a Maria. Alle 18.30 la messa, alle 20 la cena organizzata dalla parrocchia. Domenica 1 ottobre alle 11, la messa solenne, cui seguirà la supplica alla Madonna. Nel pomeriggio alle 16.30 il vespro e la processione. Al termine delle funzioni religiose, lo spettacolo pirotecnico. Festa della Madonna del Rosario nella parrocchia di San Siro a Santa Margherita Ligure. Il triduo di preparazione si conclude oggi alle 17.30 con la recita del Rosario e la preghiera Maria. Alle 18 la Santa Messa. Domani alle 17.30 il Rosario e alle 18 la messa presieduta dal sacerdote novello Don Stefano Bruzzone. Domenica 1 ottobre le messe saranno celebrate alle 8 alle 10.30. Alle 18 la messa solenne presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi di Chiavari, cui seguirà la processione per le vie del quartiere e la benedizione eucaristica. In occasione della festa patronale di Nostra Signora del Rosario, la parrocchia di Santa Sabina a Trigoso si riunirà per la celebrazione dell'Eucaristia domenica alle 11.00. La Santa Messa sarà presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. La parrocchia di Santa Giulia di Centaura a Lavagna celebra la festa patronale di Nostra Signora del Rosario. Sabato alle 15 un momento di preghiera e la festa con tutti i bambini. Domenica 1 ottobre alle 11 la messa solenne presieduta da Don Alessandro Capaldi e il saluto da parte del parroco alla comunità. Nel pomeriggio alle 16 il vespro e la processione. Sono terminati gli scavi archeologici sui ruderi dell'ex chiesa di San Marciano a Carasco. Hanno riportato alla luce la chiesetta sepolta da ben due devastanti alluvioni. Ora è pronto il progetto per realizzare qui un polo museale che raccoglierà anche le testimonianze ritrovate in Val Fontana Buona. Forse non tutti sanno che Carasco ospita due tesori archeologici. Non lo sanno perché erano sconosciuti fino a poco tempo fa. Sono stati illustrati nel corso delle giornate del patrimonio. Del tutto sconosciuta era l'esistenza dei muri di origine medievale accanto alla chiesa di San Teufemiano di Graveglia. Erano noti invece i ruderi dell'antica chiesa di San Marciano, anch'essa di origine medievale. Nel 2007 sono iniziati gli scavi condotti di concerto con la soprintendenza dagli studenti della scuola di specializzazione in archeologia dell'Università di Genova. Il cantiere ora è pressoché ultimato. Lo scavo archeologico ha restituito il dato materiale, l'evidenza, quella che è visibile a tutti. Una parte della chiesa viene investita da un'alluvione, l'alluvione porta via quasi tutta la navata, rimane il coro. Ovviamente questo accade nel 1626. È una chiesa medievale che quindi prima ha una lunghissima vita, dal 1187 fino al 1626. Si cerca, dopo l'alluvione, di ripararla. Si cerca di ripararla, si mette mano anche all'organizzazione interna, si costruisce un altar maggiore, ma una seconda alluvione spazza via tutto. Quando si è affrontato lo scavo archeologico della chiesa di San Marciano, lui si è fatto sapendo benissimo che ci si trovava davanti a un monumento, a un sito di interesse culturale e di interesse archeologico. Anche grazie all'attività di Renato Lagomarsino, soprattutto di Renato Lagomarsino, il quale ha sempre agito in modo che questo sito non venisse dimenticato. Il comune di Carasco sta ultimando la progettazione definitiva dell'area museale, che renderà questo sito fruibile a tutti, con un piano terra aperto alle visite e un primo piano destinato ad esposizione. Verrà installata sicuramente al piano primo una sala multimediale con dei video in cui vengono raccontati e descritti tutti gli interventi effettuati nei ritrovamenti durante i lavori della chiesa di San Marciano. In occasione abbiamo anche studiato e analizzato con la soprintendenza e con l'Università di Genova di poter far confluire anche i ritrovamenti del territorio della Fontana Buona. 21 titoli in cartellone tra prosa, commedia in dialetto, musica e cabaret, che dal prossimo 14 ottobre al 21 aprile del 2018 si avvicenderanno sul palco. È stato presentato il nuovo cartellone del Teatro Comunale di Monleone di Cicagna, che l'associazione Media Quality per il settimo anno consecutivo propone agli abitanti della Val Fontana Buona, ma non solo, spettacoli di qualità che verranno presentati domenica prossima alle 16 per un luogo che vuole anche essere un presidio culturale per il territorio. Quest'anno tornano anche i corsi di teatro che verranno presentati invece giovedì 5 ottobre a partire dalle 17. Quest'anno su cosa avete puntato? Quest'anno abbiamo puntato su 21 spettacoli, tutti molto divertenti. Abbiamo la rassegna del Teatro Dialettale, che si svolge la domenica pomeriggio, sono 6 le proposte. Abbiamo la rassegna del cabaret, 4 proposte, abbiamo 3 concerti e 8 spettacoli di prosa. Tra le novità, un ritorno per quest'anno, anche il musical. Chi arriverà? Esatto, la compagnia TM con un musical è Vita. Sul palco avremo 16 artisti, tra cantanti, ballerini, attori e un gruppo che suonerà dal vivo le musiche. Era partita come una scommessa, dopo 7 anni è una realtà importante del territorio, anche un presidio culturale, il Teatro di Moleone di Cicagna. Sì, sono 7 anni, nessuno probabilmente avrebbe mai detto che avremmo durato tutto questo tempo e invece sì, 7 anni sono tanti in una realtà come la nostra. Mi ricordo qualche anno fa anche Gigi Marzullo ne parlò nella trasmissione Applausi o palco in tarda serata sulla RAI e proprio parlò di questo teatro, tessendo le lodi, come teatro sociale, in un territorio che ha conosciuto ricchezza ma che adesso ovviamente vive una crisi comune a tutti. Ci sarà modo non solo di vedere il teatro ma anche di sperimentarlo, di impararlo? Sì, un aspetto importante nostro sono i corsi, i laboratori che curerà Federico Luciani, un attore, un didatta e si svolgono soprattutto sul palco del teatro. Questo è un aspetto magico del teatro. Cosa rappresenta per il comune la realtà del Teatro di Cicagna? È una realtà di cultura e diciamo anche di divertimento, di svago e io la identifico un po' come uno spazio ludico-culturale perché al teatro si impara, si insegna, però è anche un momento di divertimento e di svago. Innovare le pratiche per l'intervento nei confronti dei minori che vivono in famiglie fragili, intensificando le politiche a loro sostegno e al contempo evitando l'allontanamento dei minori dal nucleo di origine. È l'intendimento dell'Ordine del Giorno presentato da Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell'Ufficio regionale di Presidenza, sottoscritto anche dal presidente del gruppo Angelo Vaccarezza e dai gruppi Liguria Popolare, Giovanni Totti Liguria e Lega Nord. Il documento propone la costituzione di una cabina di regia regionale per un monitoraggio efficace del piano di recupero delle situazioni familiari più disagiate e chiede l'istituzione di una specifica anagrafe regionale dei minori fuori famiglia. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per le ultime notizie. Prima la famiglia, così titola Avvenire, l'associazione al governo no slogan misure ora il segretario della CEI Galantino a investire sui figli per un'Italia serena e Gentiloni apre la conferenza nazionale riconoscendone il ruolo ma promette solo un incremento dei fondi per il contrasto alla povertà. E sotto così peggiorano i veri conti d'Italia, rapporto Asvis sugli obiettivi di sviluppo. Ceneri pericolose indagate Ilva e Nelle cementire smaltimento rifiuti sotto inchiesta in 31. E poi la legge Just Culture si ragiona, la CEI da diritti e doveri, vediamo all'interno di Avvenire il segretario della CEI a parlare. Nella legge diritti e doveri si è accelerato sull'Unione Gay, non sugli italiani mantenuti senza cittadinanza. Il segretario generale della CEI dall'immigrazione al terrorismo contro la norma a tensioni che non c'entrano nulla. si dia la famiglia fatta di padre, madre e figli, almeno la stessa attenzione data ad altri tipi di convivenza. Siamo sul secolo XIX, il maniaco dell'ascensore che ritorna, un incubo che ritorna a Genova. Violenza su una tredicenne, Edgar Bianchi fermato a Milano. Il barmar genovese, noto come maniaco dell'ascensore, era libero da tre anni, sospetti su altre aggressioni. Porta chiusa per Gallazzi, il Genoa resta prezioso, il presidente respinge l'ultima offerta, trattativa mai decollata, il commento di Mauro Casaccia, ma ora si evita i tifosi un'altra telenovela. E siamo a Rapallo, dita incaricata dalla regione, Rapallo rimuove il red carpet, costa al comune 8 mila euro. E poi ancora sul salvataggio del teatro cantero di Chiaveri, pronti a lanciare il crossfunding per salvare il cantero. Mobilitazione anche sul web. E andiamo all'interno del secolo XIX, nel Levante, ATP e SPA non paga il debito agli azionisti, Chiaveri, Rapallo, Sestri, Lavagna e Santa, verso un'ulteriore proroga. Legge Madia, nessun terremoto, un anno per decidere sulle azioni, la società rimane operativa. E ancora dal secolo XIX, al dormitorio trovato tetto e lavoro, Milena Badante Bulgara disoccupata, dormito in stazione e ora a una casa, al dormitorio della Chiarella di Chiaveri, affrancata dopo una permanenza nella struttura di Chiaveri, domani il pranzo solidale per celebrare l'anniversario del villaggio del ragazzo. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti. La cronaca, i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato un uomo di 34 anni residente a Milano. L'hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito, mentre guidava la propria auto in evidente stato di ebbrezza. A Rapallo, invece, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un 58enne di origine straniera, ma residente a Genova, perché vedeva capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Il valore della merce che è stata sequestrata montava a 2.500 euro. È tutto, a te la linea. Una notizia di pesca che trovate anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. Filippo Montepagano, della società FIMA Chiavari in divisa azzurra della nazionale italiana, si è laureato campione mondiale long casting della categoria a squadre. Sul campo di lancio di Calais in Francia, dal 19 al 23 settembre, la squadra italiana A, composta da cinque lanciatori, ha letteralmente sbaragliato le altre rappresentative presenti provenienti da Europa e Sud America, con quattro primi posti nelle quattro categorie di zavorre lanciate. Nella classifica assoluta, invece, Montepagano ha conquistato il terzo gradino del podio iridato. Terminiamo così questo appuntamento con il TG13. La nostra informazione ritorna alle 19.15 con Tiguglio Oggi. Vi ricordo, alle 21.10, l'appuntamento con la rubrica di Cronaca di Occesana, Noi Chiesa. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie per aver guardato il video.